La nostra società oggi dipende dalla fotografia probabilmente come nessun'altra mai nella storia. I nostri telefoni ci danno la possibilità di avere accesso diretto e costante alle fotocamere e di condividere scoperte e opinioni. Siamo incoraggiati a condividere le nostre foto sui social e la verità è che secondo me tutto questo non è affatto un problema. La fotografia è una forma personale di espressione di sé nel mondo. Definisce i nostri interessi e in parte anche chi siamo come individui o almeno cosa vogliamo raccontare di noi. Eppure nella sua storia la fotografia non è sempre stata così amata. Ha dovuto passarne molte per arrivare dove è oggi. La parola fotografia deriva dal greco photos che significa luce e graphos che significa disegno. È l'arte, la scienza e la pratica di creare immagini durature registrando la luce o altre radiazioni elettromagnetiche chimicamente o oggi elettronicamente. La storia della fotografia è ricca di scoperte e innovazioni che risalgono a tempi antichi. Prima ancora dell'avvento delle moderne macchine fotografiche antichi pensatori come il filosofo cinese Mosi e matematici greci già immaginavano l'idea di catturare immagini attraverso dispositivi stenopeici nel V e nel IV secolo a.C. Nel corso dei secoli menti illuminate come Daniele Barbaro o La Roche hanno contribuito a delineare concetti fondamentali come la camera oscura o il diaframma che costituiscono la base della fotografia come la conosciamo oggi. Ma il momento più significativo nell'evoluzione della fotografia avviene nel 1820 quando Niepce crea la prima fotoincisione permanente. Nonostante alcuni ostacoli iniziali, persevera e nel 1826 realizza la prima fotografia. L'evoluzione però non si ferma qui. Collabora infatti con Daguerre per ridurre i tempi di esposizione aprendo la strada per il daguerotipo e per la prima foto di una persona nel 1837. Così attraverso la tenacia e l'ingegno di individui visionari in tutta Europa la fotografia ha fatto grandi passi avanti, trasformando il modo in cui vediamo e catturiamo il mondo che ci circonda. Nasce però un problema per gli artisti. Una macchina riproduce la realtà così come la vediamo quasi. Ritratti, paesaggi, qualsiasi soggetto può essere riprodotto quando prima si chiedeva ad un artista di creare una copia della realtà. Certo a metà ottocento il mondo rappresentato dalla fotografia è ancora in bianco e nero ma nei primi del novecento i primi strumenti per realizzare foto a colori vengono commercializzati come ad esempio il processo di autocromia dei fratelli Lumière. Nel 1935 dopo questa importante innovazione Kodak fa il grande passo e introduce il primo esempio di pellicola chiamata Kodakrom. Questa rivoluzionaria pellicola cattura componenti a tre colori e ogni strato è sensibilizzato per registrare un colore specifico rosso, verde o blu. Ma non finisce qui. Nel 1963 viene lanciata sul mercato la pellicola istantanea a colori sfruttando una speciale fotocamera che poteva produrre fotografie a colori in pochi minuti dopo l'esposizione. Questa tecnologia è usata fino ad oggi e ha cambiato il gioco della fotografia istantanea, la polaroid. Ma cosa fanno gli artisti mentre tra ottocento e primo novecento tutto questo accade? I mezzi basati su lenti offrono una rappresentazione della realtà molto più convincente rispetto alle opere dipinte su tela. Di fronte a questa sfida i pittori si liberano e sviluppano nuovi stili e prospettive. Iniziano gli impressionisti. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Gli impressionisti infatti vogliono sfidare la macchina concentrandosi anche loro sulla luce e la sua rappresentazione. Ma senza l'intento di essere realisti perché non ne hanno più bisogno. Poco dopo Picasso sfida anche lui le convenzioni della rappresentazione della prospettiva lineare dando vita al cubismo. Lui contesta il concetto stesso di realtà, non ha bisogno di ritrarre quello che il suo occhio vede se può scomporlo. Nei suoi ritratti fonde molteplici prospettive in un unico momento del tempo rompendo le barriere tra forma e spazio. E negli stessi anni in cui Picasso crea opere come La donna che piange la fotografa Dorothea Lange scatta foto come La madre migrante, una delle foto più famose della storia, è il 1936-37. Lo scopo della Lange è raccontare con intensità gli effetti della grande depressione americana sui braccianti agricoli nel sud della California. Quindi mentre i fotografi sono alle prese con i meccanismi della macchina fotografica i pittori continuano a lavorare con la superficie della tela. Creano composizioni stratificate che privilegiano sensazioni astratte rispetto alla rappresentazione della realtà. Francis Bacon per esempio crea opere in cui ogni pennellata è carica di emozione. Ma sarebbe impossibile raccontare il rapporto tra arte e fotografia citando tutti gli esempi di collisione fra queste due forme d'arte nel novecento che si incontrano e scontrano infatti praticamente in continuazione. Concentriamoci quindi un attimo sulla pittura nella fotografia. Alcuni artisti del secondo novecento infatti decidono di unire le due arti. Uno degli esempi che io più amo è Jeff Wall. Il lavoro di Jeff Wall esplora il sottile confine tra verità e finzione, tra vita quotidiana e fantasia sfidando l'idea convenzionale che la fotografia sia un fedele registro della realtà. Inizialmente si forma come pittore, è affascinato dal cinema e adotta un approccio tutto suo utilizzando fotografie di grandi dimensioni montati su dei lightbox. L'esempio più riconoscibile è l'opera A Sudden Gust of Wind dove cattura un istante apparentemente congelato nel tempo con quattro figure sorprese da una folata improvvisa che attraversa il paesaggio aperto. La composizione si basa su un'opera d'arte, l'axilografia del pittore e incisore giapponese Okusai e per realizzarla sono stati necessari oltre un anno e più di cento scatti separati. La fotografia può per alcuni artisti però anche diventare pittura e in pratica si sfrutta l'immagine fotografica per offrire nuove prospettive. Artisti come Andreas Gersky manipolano le proprie fotografie per mettere in discussione ciò che costituisce una rappresentazione autentica della realtà. Le sue fotografie spettacolari su grande scala e le composizioni precise ci spingono a guardare oltre l'obiettivo e a mettere in discussione le strutture sociali della rappresentazione della verità. Un altro esempio di fotografia come pittura sono le opere di Candida Hofer che secondo me altro non fa che dimostrarci che il modo in cui presentiamo e organizziamo le immagini determina ciò che percepiamo e come lo viviamo. Ma come ci sono fotografi che di fatto sono artisti nel novecento ci sono anche artisti che utilizzano la fotografia come base delle loro opere. Probabilmente il più famoso di loro è Gerhard Richter di cui vi ho raccontato in un altro video tra gli artisti che hanno scioccato il mondo dell'arte. Cresciuto nella Germania dell'est del dopoguerra i fotodipinti di Richter affrontano storie di conflitti inserendo l'esperienza personale in un contesto molto più ampio. I suoi paesaggi sono tratti da fotografie scattate dallo stesso Richter e richiamano ai pittori romantici tedeschi del XIX secolo che agivano come mediatori tra la natura divina e l'arte dipinta. Richter porta questa idea di mediazione un passo avanti dipingendo momenti già catturati. Questo concetto di artificio è evidente in opere come Two Candles che richiama la tradizione delle nature morte, sembra una foto sfocata, è in realtà un olio su tela che nasce dalla copia di una foto. La luce delle candele rimane immortalata come un'immagine dipinta per il resto dell'eternità. Ma nel corso della sua vita relativamente breve la fotografia oltre a scontrarsi con la pittura ha dovuto lei stessa affrontare le difficoltà della pittura. La fotografia infatti inizialmente viene vista come uno strumento per rappresentare la realtà, un modo per sostituire la pittura realistica e dare spazio alla creatività artistica e in fin dei conti per molti versi serve ancora a catturare la nostra storia, le nostre storie. E quale gruppo di artisti può considerarsi anticipatore del nostro attuale modo di utilizzare la fotografia sia nella quotidianità che in ambito artistico se non gli artisti della pop art? Negli anni 50 e 60 artisti come Andy Warhol, Rauschenberg, Pauline Voti e Richard Hamilton sperimentano il mezzo della pittura, incorporano nel loro lavoro serigrafie e fonti fotografiche provenienti dalla cultura popolare, dai mass media e dalla pubblicità. Questo approccio di fusione di immagini popolari e processi meccanici con l'arte viene abbracciato da artisti di tutto il mondo e diventa in fin dei conti la base stessa dell'arte pop. Catturano il loro mondo e il loro ambiente, esplorano il culto della personalità e indagano la cultura visiva popolare. Voti espone l'oggettivazione delle donne, Warhol ed Hamilton si concentrano sulla natura costruita e performativa della masculinità. Moltiplicando e ampliando il rumore visivo della vita moderna, queste opere mettono in luce la complessa relazione tra immagine e se stessi. E se tutte queste correnti e diversi usi di fotografia e pittura si sono uniti e scontrati nel Novecento, certo è che nel presente gli artisti di oggi sono alle prese con ulteriore sfida, far convivere queste due forme artistiche nell'era digitale. La fotografia digitale ha una storia più lunga di quanto penso, la maggior parte di noi immagini. Per catturare un'immagine il processo digitale sfrutta un sensore di immagine elettronico anziché i processi chimici sulla pellicola. Nel 1981 Sony introduce la sua prima fotocamera di largo consumo, la Sony Mavica. Anche se non usa la pellicola questa macchina non è interamente digitale poiché memorizza le immagini su un disco e le riproduce poi in televisione. Nel decennio successivo Kodak lancia la DCS100, la prima fotocamera reflex digitale disponibile sul mercato, aprendo così la strada al progresso della fotografia digitale. A partire dagli anni 90 le fotocamere digitali diventano famose per la possibilità di inquadrare e scattare e diventano prodotti di consumo molto popolari. Fin quando la fotocamera, ma soprattutto la fotografia di alta qualità, arriva alla portata di tutti noi nei nostri telefoni, permettendo a tutti noi di raccontare il mondo che ci circonda e agli artisti di avere un ulteriore strumento per la loro arte. Ma soprattutto liberando una volta per tutte la fotografia dal suo ruolo di racconto della realtà nuda e cruda e facendola diventare una delle forme d'arte insieme al video più presente nelle nostre biennali e mostre internazionali. E se questo video in cui ti racconto il rapporto tra arte e fotografia nel tempo ti è piaciuto, iscriviti al canale e dai un'occhiata al mio video sui 10 artisti che hanno scioccato il mondo dell'arte. Grazie e alla prossima!